Ciao tifoso azzurri, benvenuto nel canale Notizie Napoli Calcio. Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perderti nessuna notizia dal club più grande d'Italia, dalla Spagna. Il Napoli propone al Villareal uno scambio con Lozzano. Irving Lozzano è uno dei big del Napoli con il contratto in scadenza nel 2024. Potrebbe essere uno dei partenti nell'estate prossima. Intanto giungono voci di mercato dalla Spagna. Irving Lozzano sta disputando una stagione di altissimo livello con la maglia del Napoli. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe essere uno dei big a lasciare gli azzurri nel corso della prossima estate. A tal proposito circolano nuove voci di calciomercato sul futuro del calciatore. In particolare arrivano dalla Spagna nelle ultime ore. Secondo quanto riporta il Gol Digital, infatti, l'attaccante messicano potrebbe essere coinvolto in un'operazione tra Napoli e Villareal. Il club partenopeo, riferisce il media iberico, avrebbe offerto il cartellino di Lozzano come moneta di scambio al submarino amarillo per arrivare a Jeremi Pino. Esterno destro d'attacco classe 2002 che vantaggia sette presenze nella nazionale maggiore. Il Villareal starebbe valutando con interesse ed attenzione la proposta. Ma oltre al cartellino di Lozzano vorrebbe anche una contropartita economica per privarsi del suo talentuoso attaccante, che vedrebbe di buon occhio un suo trasferimento in Azzurro. Staremo a vedere. Tifoso Azzurro, qual è la tua opinione su questo scambio? Ti piacerebbe o no? Lascia la tua opinione nei commenti e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!